buongiorno proseguiamo con il ciclo di trasmissioni di questi video sulla transizione energetica come sempre basati sull'esposizione di un ricercatore pubblico del cnr quindi con dei dati che ci vengono forniti appunto da un ente di ricerca 100% pubblico eravamo rimasti nella scorsa puntata al fatto che i pannelli fotovoltaici sono molto semplici da smaltire in quanto sono composti da 75 per cento di vetro e poi abbiamo 12 per cento plastica 9 per cento alluminio 3 per cento silicio 1 per cento rame e quindi a livello qualitativo non pongono un problema adesso passiamo a livello quantitativo perché come dicevo anche nella scorsa puntata da anni i giornali e le radio ci hanno convinto che il problema mondiale dei rifiuti globale sia quello dei pannelli fotovoltaici quando in realtà i pannelli fotovoltaici rappresentano una quantità minimale assolutamente minimale adesso la vedremo un po più in dettaglio ma prima di passare all'esposizione di armaroli e poi alle slide seguenti volevo già anticiparvi una diapositiva eccola qui torniamo indietro eccola qua che è estremamente importante estremamente importante allora quando viene installato un impianto fotovoltaico da un megawatt si produce un tot di energia tipicamente un impianto fotovoltaico tipicamente dura 30 anni quindi per 30 anni produce una certa quantità di energia ora i ricercatori hanno calcolato l'equivalenza di quanto carbone serve per produrre la stessa elettricità energia elettrica in 30 anni come vedete ci vogliono 70 volte più materiali in peso quindi 200 tonnellate di materiali per fare un impianto fotovoltaico da un megawatt per produrre la stessa quantità di elettricità che viene prodotta tipicamente questi 30 anni ci vogliono 14.000 tonnellate di carbone però con l'enorme differenza che il pannello come vi ho appena mostrato è fatto per tre quarti di vetro e poi altri materiali che si riescono a riciclare il carbone produce delle ceneri di carbone che adesso andremo a vedere un po più in dettaglio sono estremamente più pericolose torniamo indietro e anzi diamo la parola al professor armaroli intanto io mi riporto al pari con le diapositive e adesso andremo a vedere appunto le quantità allora diamo la parola ad armaroli e vediamo le quantità qualcuno dice vabbè saremo sepolti dai pannelli fotovoltaici perché voi a forza di installare voi lì ci seppellirete questo è nature physics tre settimane fa questa è nel caso peggiore la quantità di volume di fotovoltaico che avremo al 2050 andando avanti di questo passo vedete è una quota irrisore in termini di volume rispetto ad esempio alla plastica e così via quindi quella della chiave la protezione del polisilicon purissimo che viene fatta allora al di là dell'audio che non si è sentito benissimo ma la cosa importante è la diapositiva quindi rimettiamo la diapositiva che si diciamo si spiega praticamente da sola ma adesso aggiungiamo alcuni dati ora vedete una serie di cubi quindi partendo dalla sinistra e andando verso destra che cosa abbiamo abbiamo a sinistra la quantità di ceneri di carbone che vengono prodotti ogni anno e vedete più cubi perché c'è la situazione attuale e poi man mano si arriva fino al 2050 quindi il cubo che vedete diciamo più vicino a voi più sta più di fronte quello è la situazione attuale o meglio 2016 e poi man mano si va avanti fino arrivare alle previsioni 2050 quindi i cubotti diciamo così grigi sulla sinistra sono le dimensioni dei dei rifiuti delle ceneri di carbone su cui adesso andremo a anzi scusate ho sbagliato sono i rifiuti municipali è abbastanza simile ma sono i rifiuti municipali rifiuti urbani rifiuti urbani il carbone appunto quello grigio che è il secondo partendo da sinistra dopodiché quello diciamo rossastro sono i rifiuti plastici altro immenso enorme problema in generale e certamente come abbiamo visto nella puntata precedente il pannello ha fatto al 12 per cento anche lui di plastica ma certamente non è ci vuole un grosso esperto non è il pannello a produrre a consumare a impiegare quella enorme quantità di plastica che usiamo in migliaia di applicazioni tra cui vi ho ricordato nella scorsa puntata ma lo ricordo adesso l'abbigliamento l'abbigliamento è la seconda filiera più inquietante al mondo i nostri abiti sono quasi tutti ormai un misto tra fibre naturali lana canapa cotone altre fibre naturali e poi c'è l'onnipresente poliestere in varie in varie tipologie con varie miscugli all'interno di vestiti e proprio questi miscugli rendono i vestiti molto difficili da riciclare per cui l'abbigliamento e la seconda filiera più inquietante al mondo non solo in fase produttiva ma anche in fase di smaltimento perché appunto è difficile separare la parte di fibra naturale dalla parte invece di fibra sintetica cioè in plastica bene arriviamo al alla parte blu alla parte blu che sono i famosi RAE i famosi rifiuti elettrici ed elettronici quindi televisori computer smartphone frigoriferi forni lavatrici aspirapolvere robot per la pulizia eccetera eccetera tutti i rifiuti elettrici ed elettronici e la penultima serie è quella diciamo in un marroncino chiarino e quelli sono gli scarti di raffinerie di petrolio gli scarti delle raffinerie di petrolio anche queste adesso andremo un attimo a conoscerli meglio l'ultimissima serie che all'inizio è praticamente invisibile è quella arancione ecco quelli sono i quello è il fotovoltaico quello fotovoltaico è l'ultimissima serie quella destra estremamente estremamente ridotta in termini quantitativi e ribadisco nella puntata precedente abbiamo visto che a livello di riutilizzo delle sostanze ripeto il 75 per cento è vetro e il vetro lo ricicliamo fortunatamente da secoli ora detto questo e detto come i mass media ci fanno il lavaggio del cervello da dieci anni e io ho conosciuto e conosco moltissimi ambientalisti in buona fede che si preoccupano dei pannelli fotovoltaici che per carità è corretto preoccuparsi dei pannelli fotovoltaici ma in queste due puntate vi sto dando i dati sia quantitativi che qualitativi allora adesso capiamo che il problema non sono i pannelli fotovoltaici ma sono le altre tipologie di rifiuti ma io vi voglio dare alcuni dati alcune informazioni ulteriori sulla plastica si è parlato moltissimo dei rifiuti elettrici ed elettronici ugualmente se ne parla abbastanza i rifiuti urbani sono una tipologia molto eteriogenea ne parleremo eventualmente in altre occasioni ma vi voglio dare alcuni dati su dei materiali che usiamo da un paio di secoli e cioè il carbone il petrolio e cioè le ceneri di carbone appunto quella quantità rappresentate dai cubi grigi quasi la più grande la seconda la seconda da partire da sinistra e poi i rifiuti lo scarto delle raffinerie di petrolio quantitativamente decisamente meno meno importante ma la pericolosità è simile allora partiamo dal problema quantitativamente immenso col carbone si fa ancora un buon 20 per cento dell'energia globale appunto mondiale e questi questo dato ci dà subito a colpo d'occhio una questa questa grafica ci dà colpo d'occhio o un primo dato io ho fatto un conto molto veloce 350 milioni di tonnellate di carbon di ceneri di ceneri di carbone prodotte annualmente 350 milioni di tonnellate anche qui una cifra molto difficile da visualizzare e di che cosa di che cosa preoccuparsi beh di parecchie di parecchie cose parecchie cose vediamo qua se funziona questo maledettissimo questo maledettissimo sito che avevo caricato pochi secondi fa intanto nell'attesa che si che si che si carichi andiamo a vedere questo la cenere di carbone allora ci sono ci sono varie tipologie di carbone carbone non è unico si differenzia per cosa contiene alcuni carbone alcuni carboni possono contenere anche sostanze radioattive in questo caso la cenere conti conterrà queste sostanze il problema qual è che mentre nelle centrali nucleari vere e proprie i rifiuti sono smaltiti con enorme attenzione con enormi costi come come visto nelle puntate precedenti nemmeno calcolabili però ancora ancora non sappiamo come come gestire questo questo rifiuto nel caso delle centrali a carbone invece non c'è questa attenzione e quindi oltre a contenere di ossina tutta una serie di metalli pesanti che adesso vedremo possono contenere anche sostanze radioattive ma non vengono appunto gestite con tutta questa attenzione può contenere silice mercurio taglio litio cromo piomo assanico boro carbo molibdeno e taglio e ripeto qui stiamo parlando di 350 milioni di tonnellate all'anno di ceneri di carboni che contengono anche queste sostanze similare è la composizione degli scarti di raffinerie di petrolio di raffinerie di petrolio che contengono anche in questo caso metalli pesanti come bario zinco cromo arsenico nickel selenio bel beriglio e mercurio e qui viene anche specificato appunto che li contengono in maniera eccessiva l'ambiente non ce la fa a auto ad auto rigenerarsi e quindi vanno a contaminare il suolo gli animali le piante eccetera eccetera l'ultima diapositiva che mi ero caricato anche in questo caso vedo che vuole ricaricarla perfetto da qui allora e il termine inglese oil sludge appunto è il rifiuto finale del della raffineria petrolifera eccolo qua contiene contiene la larghe e ampie quantità di cicloalcani benzeni idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze tossiche pericolose per l'ambiente che pongono un sostanziale una sostanziale minaccia alla salute umana e alla all'ambiente circostante ecco quindi queste sono solo alcune informazioni che si possono reperire tranquillamente in rete ma che giornali tv i cosiddetti il cosiddetto mainstream non ci passa ci passa sempre l'informazione che il problema è il pannello fotovoltaico quindi chiudiamo ancora con questa slide che taglia la testa al toro per quanto riguarda il problema del dei rifiuti appunto da materiali da prodotti energetici nemmeno questo vuole funzionare sta funzionando tutto malissimo eccolo qua e questa diciamo taglia la testa al toro col combinato con quanto vi ho esposto nella puntata precedente quindi con il fatto che i pannelli fotovoltaici sono fatti altre per tre quarti di vetro e questa invece dalla parte appunto di quantità i problemi sui rifiuti sono ben altri sono ben altri non è certo non sono certi i pannelli fotovoltaici o men che meno le pale e pale oliche qui magari proverò dedicare una puntata successiva che quantitativamente sono ancora ancora minori bene nelle prossime puntate proseguiamo nella prossima parleremo della delle superfici occupate di quanta superficie ci vuole per soddisfare i fabbisogni energetici in questo caso col fotovoltaico in questo caso faremo proprio vedremo proprio il caso specifico italiano quindi alla prossima puntata grazie